esterno ragazzi c'è chi guidati da altri prima aspettate la mia azione prima di la libertà, c'è chi gli ha un proizirato? hai, a chi le ha? l'accia! da c'è chi? qui c'è chi? c'è chi? qui c'è chi? da c'è chi? 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 Guarda, guarda. Tocca! Cos'è? Brava, brava, mi invita. Dove stiamo? No, cos'è? Cos'è? La bici. Ah, non la farei toccarlo. Non la farei toccarlo. Vai! Vai! Dov'è sta l'actone? Chut! L'arco del l'agricione Che? Non c'è? Ah, v'è stupo. No, qu'è stupo? Qu'è stupo? Qu'è stupo? Dov'è stupo? I tu, che stupo? Iscrivaj! Voi stupo? Cos'è? Voi stupo? Sperò vissi. Stangha Le palle Ma non voglio stare qui Dai, dai un giardino Dai Andiamo là, dovresti un giardino Dobbiamo andare lì Ecco, ecco C'è l'???? C'è questa cosa? C'è giusto Stop!